ciao ciao oddio grazie di essere qui 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 con me oggi qui 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 oggi 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 ho deciso di tornare un pochino con calma e ho deciso di guardare questo video che è un bonte per me vi spiego subito voi vedrete questo video appunto giovedì cos'è 5? 6 settembre? 7 settembre e però come sapete come spero avrete notato faccio un po' di tapping intanto sono usciti video per tutto il mese di agosto anche se solo con un video settimana e non due invece da questa settimana usciranno di nuovo due video settimana la programmazione classica vi ringrazio per portato pazienza in questo mese che ho rallentato ma mi ci voleva e l'ultima volta che ho registrato un video era a fine luglio quindi officialmente più di un mese che non registro un video e sono carichissima finalmente è passato anche il caldo torrido per cui non faccio la sauna qui ma sto bene e diciamo che ho deciso di girare questo video per riprendere a registrare poi dal prossimo riprenderanno i video classici niente più troppe chiacchiere però volevo che fosse un pochino un video aggiornamenti soprattutto anche per chi non mi segue su instagram mi trovate come chiara.sml però magari qualcuno non ha instagram eccetera e appunto sono tornata alle vacanze ditemi nei commenti se siete riusciti ad andare in vacanza dove siete stati se ci andrete nei prossimi mesi ditemi raccontatemi magari un momento anche bello di quest'estate e se nel caso non siete riusciti ad andare in vacanza non è stata proprio l'estate migliore della vostra vita potete anche sfogarvi che leggerò sicuramente ma anche io so di avere una community molto empatica e sono sicura che qualcuno vi capirà vi risponderà e vi darà conforto e spero possa servirvi anche solo sfogarvi un pochino perchè non sempre le cose vanno come vorremmo oggi sono qui appunto per azzornarvi per darvi un annuncio speciale diciamo così per me è speciale comunque e per farvi una show in tell delle poche cose che ho comprato nel mio piaggetto piccolo in Irlanda che ho fatto con la Carly e ho comprato due trasvenir e li uso come scusa per fare dei suoni come scusa per fare uno show in tell ecco quindi per prima cosa in realtà voglio annunciarvi che voglio annunciarvi che sono in cerca di un una per me indifferente video editor per il can smr mettere un annuncio anche su instagram probabilmente mettere un annuncio anche su linkedin però ve lo dico qui perchè magari fra di voi c'è qualcuno e sono così sicura almeno che siate fan o che apprezzate o che capiate di smr perchè è fondamentale mi servono varie ci sono varie richieste in realtà vi do la descrizione del lavoro e ciò che è richiesto in descrizione siete interessati e vi lascio anche la mail a cui scrivere e vi dico solo prima di scrivere eccetera che io lo cerco in zona quindi in zona Emilia in modo che nel caso possa venire anche a possiamo incontrarci possiamo qualche volta se necessario lavorare insieme di persona quindi sì certo qualcuno che comunque si possa spostare e in Emilia detto questo io sono molto emozionata perchè per me è un passo grandissimo perchè è anni che edito i miei video ma mi rendo conto che è una parte del processo creativo che non mi piace che faccio spesso controvoglia che mi limita a volte nel creare video perchè magari mi impigrisco un pochino e dico no vabbè non faccio questo video così elaborato perchè poi l'editing invece così posso fare il video elaborato come preferisco e soprattutto evito magari gli errori di svista che a volte tendo a fare appunto perchè vabbè non riesco a volte a concentrarmi al 100% perchè non è proprio la mia parte preferita quindi a volte ci sono delle sviste tipo nel video nella scorsa settimana che a un certo punto non si sentiva più l'audio e lì proprio ho capito di aver bisogno di qualcuno anche per potermi dedicare ad altre parti al mio lavoro che mi stimolano di più quindi niente spero di trovare qualcuno e volevo però anche condividere questa mia piccola decisione con voi perchè per me in realtà è molto importante è un affidare un ruolo molto importante e affidare una parte al mio lavoro cui tengo tanto comunque speriamo e in realtà in questo periodo scusate le chiacchiere ma ve l'ho detto chiacchiere azionamenti poi dal video prossimo si ricomincia magari con video suoni parlati un pochino meno ecco e appunto in realtà settembre ottobre novembre saranno mesi in cui in cui vorrei sfidarmi molto in cui vorrei uscire dalla mia conversione per molte certe cose quindi vedremo vorrei raggiungere certi obiettivi prima di 30 anni che compirò a mese dicembre insomma pochi mesi tre mesi qualcosa ok io direi che vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire vi dico solo un'altra cosa che questa ninfo che so che alcune persone mi chiederanno è la matita che sto usando è di mesauda ed è la numero 104 io l'adoro quando sono un pochino abbronzata mi piace tantissimo questo nude è leggermente caldo ma penso mi stia molto bene quindi so che alcune persone me lo chiederanno quindi ho anticipato la domanda anche perchè se no non me lo sarei mai ricordato ultimissima cosa sappiate che per chi riprende a studiare per chi riprende la scuola anche per chi riprende diciamo a ritmi serrati il lavoro giustamente a settembre arriverà arriverà un nuovo video di background smr quindi suoni che vi aiuteranno a concentrarvi a dormire lungo un'ora quindi che vi aiuteranno a concentrarvi per un po' di tempo e che magari potete mettere anche in loop mi spero vi piacerà arriverà presto con l'inizio della scuola ok cominciamo allora vi faccio vedere ciò che ho acquistato per me la prima cosa che ho preso non in realtà in ordine temporale ma la prima che vi faccio vedere è questa targhetta questo è se non sbaglio aiuto gaelico irlandese o comunque irlandese sopra e sotto invece è inglese ed è la traduzione appunto questo vuol dire welcome in quindi benvenuto benvenuta benvenuti non c'è niente non provo assolutamente neanche a leggerlo non evito benvenuto 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 ad entrare e pensavo di metterlo qui comunque su nel mio studio e l'ho preso in un negozio di usato mi seguito instagram l'avrò già visto perchè l'ho mostrato un po' nelle storie e in un negozio di vintage in cui vendevano queste targhette che mettono a volte sia nei pub irlandese quindi molto tipiche sia mi hanno detto che sono tipiche anche delle case del nord delle lande del nord dove io non sono stata ma spero di andare presto perchè onestamente ne sono molto innamorata anche se per un poco insieme ok è in mi avevano detto in Giza potarsi mi avevano detto nei messaggi di Instagram che materiale era, penso Giza ma non vorrei dire una cavolata in ogni caso appunto ha quattro buchini qui uno, due, tre e quattro per appenderla dovrò fare di buchi al muro non lo so, vedremo oppure non metterò questa targhetta insomma, soprammobile vedremo però mi piaceva tanto, tanto era troppo super carina anche il fatto del bilingue il fatto del bilingue in un negozietto in un paesino ho comprato due cosine che sono le altre due cosine che ho comprato appunto per me e ho comprato questo libretto su cui facevo tapping prima che è sono ricette che hanno come protagonista le patate quindi tipico irlandese è un libretto un po' così però mi piaceva perché era piccolino carino sapete che io adoro i libri di cucina quindi mi ha chiamato e io ho risposto adesso ve lo faccio vedere da un'altra inquadratura perché penso renda molto meglio però ve lo faccio solo vedere da qui invece così The Irish Pocket questa è una catena di libri una collezione di libri potato recipe book carino che bello questo tapping se vi piace ditemelo che me lo riproporrò volentieri sto tenendo il libro da fotocamera in mano quindi la ripresa sarà non ferma però lo faccio vedere così non so veramente com'è farò l'inquadratura tra l'altro ora the Irish Pocket potato recipe book 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 perdonatela mi pare un po' sporca è più di 110 deliziosi piatti allora questa è un'altra copertina non lo so c'è una piccola introduzione sulla loro coltivazione è diviso in zuppe in piatti veri e propri queste old favorites pretz vedete e zuppe contorni contorni scusate il casino contorni piatti principali appunto e poi ci ne direi un ultimo torte di patate e insalate e contorni appunto ci sono veramente tutti i gusti appunto le insalate fredde molti si assomigliano eh alcuni non sono neanche irlandesi tipo ci sono i gnocchi romani però comunque potato ligan cheese pie bella anche versione vegana match potato with tomato parmesan wow queste sembrano bellissime poi ce ne sono molte con l'aglio adoro tipo questa guardate che meraviglia e proverò a farne qualcuna però non sicuramente bene quindi sì quindi questo è il libro è costato 6 euro e questa è la dentrice sempre in questo negozietto ho preso anche una cosa molto molto particolare e vi spiego anche perché allora io seguo una ragazza non so chi la si chiama su instagram che si chiama Irene Colzi su instagram si chiama Irene Closet e lei è stata più volte in Irlanda e una volta ha fatto vedere che ha fatto una specie di degustazione di hike sulla spiaggia a me questa cosa è rimasta veramente molto impressa l'ho trovata troppo troppo carina e perché non l'abbiamo fatta appunto in Irlanda anche perché avevamo pochi giorni e sarebbe piaciuto solo a me e quindi ho trovato queste sempre in negozietto in cui ho preso il libro sono delle hike irlandesi chiamate spaghetti di mare quindi vedete si spaghetti queste vanno ovviamente reidratate perché sono essiccate e appunto sembrano degli spaghetti no? proprio rimangono tesi e sono biologiche immagino che queste siano non coltivate e non presse alla spiaggia così a caso però non lo so e magari si come si preparava per idratare e mettere in acqua per in acqua fredda per 10 minuti e lavare prima dell'uso per poserli aggiungi 15 grammi quindi questi sono 40 grammi 15 grammi di hike in 500 ml di acqua e portapollore cuoci per 10 minuti scola e servi qui suggeriscono di aggiungere delle verdure e farci una specie di stir fry quindi tipo usarle come nutel con le verdure carino li proverò li proverò molto volentieri magari ci farò muare il TikTok adesso vedete insomma però vorrei provarli anche in un video per vedere erano in offerta 3 euro il prezzo di generale era 5 non penso ne avrei acquistati 5 era troppo caro naturalmente erano in sconto perché nessuno dico che cavolo è perché appunto l'hendo visto già in estate di questa ragazza non ho avuto molto incredibile ma raga no scherzavo probabilmente c'è scritto un metodo di produzione presi a mano in modo sostenibile quindi immagino vado proprio nelle spiazze non lo so raga troppo bellino il nell'Irlanda nella West Island l'Irlanda l'Irlanda ovisto l'Irlanda per ho servito a vederli qui dentro mi diverte troppo questa cosa non so se un po' infatti la mi diverterà troppo ultime due cosine che ho acquistato e in realtà non sono le ultime due ma è inutile mostrarvi bottiglie su bottiglie di whisky e di birra come souvenir ho preso ovviamente aglio di frina li ho porto al ritorno perché avendo solo il bagaglio a mano non avrei potuto prendere dei liquidi sopra i 100 millilitri ho preso mio padre che sapete molto non lo sapete molto appassionato di cucina ma anche di liquori, schivino, tutto l'ho appassionato di tutto bere, mangiare, tutto tranne i formaggi che non gli piace e mi ha chiesto di prendergli una bottiglia di whisky e tre bottiglie di birra per mio marito, per Luca ovviamente gli ho preso una bottiglia di whisky perché anche lui comunque gli fa piacere avere le sue bottiglie anche da offrire quando abbiamo ospiti insomma una cosa carina tanto non scatola breve e poi ho preso una piccola bottiglia di whisky anche per la mia migliore amica però vi faccio vedere una bottiglia di whisky e una bottiglia di birra perché sarebbe stato un po' ripetivo il tutto cominciamo dalla birra premessa io sono completamente 100% ignorante in materia di bevande a meno che voi non mi state parlando di un tè del resto io nulla zero quindi questa era l'unica marca che c'era in aeroporto quindi non ho avuto molta scelta però come vi dicevo io sono ignorante in vino in birra in alcolici in caffè in tutto perché non sono una grande umana quindi non mi piace particolarmente la birra il vino io spero alcuni non ne parliamo mi capita di bere a volte insomma un cocktail così dopo cena se sono fuori però non è la mia cosa preferita ecco e non so non rientro nei migli whisky e una delle tre berre che le ho preso che ho preso mio padre è questa ditemi se siete esperti o se ne sapete un pochino se è valida so solo che per il sono tipo quelle un pochino rosse perché piacciono allacarli ed è di questa marca Cotton Ball Brewing Company è la città appunto da cui siamo partiti e in cui siamo tornati e questa si chiama Carrie Lane Carrie è una contera della parte ovest dell'Irlanda qui appunto siamo state e della parte anche più o meno di Corga e insomma spero gli piaccia è cattiva non sono ecco poi sicuramente va molto a gusto ecco e vi faccio vedere la bottiglia di mischi che ho preso a mio padre era quella che faceva un suono più bello quindi ho scelto quella io ho preso questa, il whisky più che mai l'ho scelto completamente a caso non lo so, ho scelto una marca che non si trova facilmente in Italia prezzo medio perché onestamente la mia padre mi ha detto e non vale la pena spendere per me 80 euro per una bottiglia che il whisky non è neanche la mia cosa preferita l'avrò pagato sui 40 euro tanto una bottiglia di whisky mi hanno un po' costare e non so dirvi altro doppia distillazione black irish whisky e non so, non so raga e non è maturato 3 anni, è maturato 2 anni perché è stato fatto il, è stato immagino messo in bottiglia o no, poi c'è scritto 120421 quindi non è stato messo in bottiglia il 14421 non so se è stato prodotto non lo so raga non lo so le ampulline le ampulline non so va tutto Grazie a tutti. 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 Io penso proprio, penso proprio, penso proprio, ma penso proprio, 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 proprio. sempre si aggiunta l'ora di abbassare le luci e augurarmi augurarti, augurare a te, a te, a te, a te una buona buona notte buona buona notte énergie good night sweet dreams buona, buona notte dulces dolces sueņa Buon'nui 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 Fai des... Joyeux Joyeure Buon'nui Le canocht Le canocht Buon'nui piccoli Boticini al whisky Crema aromatizzata al whisky Un bozzone Che le spera fan Ben Buon'nui Plas S Grazie.